Bene, iniziamo. Prendo la parola in qualità di Presidente della Fondazione Ugo Lamalfa per ringraziare innanzitutto la Camera dei Deputati per la ospitalità che ci rinnova e che è di per sé stesso un prezioso messaggio di ricordo per il nostro amico grande scienziato Felice Ippolito, con la cui famiglia, qui autorevolmente rappresentata, noi organizziamo questi incontri, questo come voi sapete è il quarto. Quindi ringrazio tutti i partecipanti e per farla breve, perché non siete certo venuti per sentirmi parlare, do la parola a Giorgio Lamalfa che introdurrà l'ospice della lezione che Lord Desmond Brown of Ladyton ci darà questa sera, questo pomeriggio. Grazie Paolo, a me fa molto piacere dare il benvenuto a Desmond Brown, Lord Desmond Brown of Ladyton. Voi nell'invito avete avuto i dati essenziali della biografia, Lord Brown è un politico del partito laburista che è stato per molti anni membro della Camera dei Comuni e poi membro del governo, è stato ministro degli affari scozzesi e soprattutto ministro della difesa nel 2006-2007, quindi in un momento molto importante, conosce a fondo naturalmente i problemi di questi anni, dai problemi dell'Afghanistan, dai problemi della fine della guerra nell'Iraq, ha naturalmente i grandi problemi della Nato, della difesa e così via. Lord Brown è divenuto Lord da poco tempo, al fine del periodo nella Camera dei Comuni è stato nominato membro della Camera dei Lord inglesi. Ha due caratteristiche, diciamo così, o due attività che ci hanno portato in contatto, diciamo così e che poi costituiscono l'oggetto di questa sua lezione per la quale lo ringraziamo molto. Egli è il coordinatore, in inglese si dice convener, è il coordinatore di un gruppo molto importante, autorevole, bipartisan inglese, che comprende gli ex ministri della difesa degli esteri, gli ex segretari generali della Nato inglesi, come Lord Robertson e alti gradi militari che si occupa, questo gruppo bipartisan si occupa di questioni che riguardano i problemi della difesa e con particolare riferimento al tema delle armi nucleari. Sono uomini, naturalmente l'Inghilterra è un paese che ha armamento nucleare e quindi sono persone che conoscono questa problematica anche dall'interno, la problematica di questo tipo di armamenti, ma sono un gruppo di persone che è interessata al problema del disarmo nucleare, ed è su questo terreno che noi ci siamo incontrati. Come i presenti che sono quasi tutti esperti di questioni come quelle di cui noi ci occupiamo stasera, ricordano che per uno scritto di quattro eminenti statisti americani, Kissinger, Schulz, Perry e Nunn, due democratici e due repubblicani, con uno scritto alla fine del 2007 sul Wall Street Journal, questi quattro eminenti firmarono un articolo congiunto nel quale scrissero che il rischio costituito dalle armi nucleari, dalla loro presenza, dalla loro diffusione e dalla loro esistenza era un rischio che l'umanità non poteva non affrontare e si proponevano apertamente quella che si è chiamata l'opzione zero, cioè l'eliminazione radicale e totale delle armi nucleari, venendo detto da uomini che non provenivano dal mondo pacifista, per così dire, ma provenivano da uomini che avevano avuto la responsabilità della politica estera e della difesa degli Stati Uniti, questa dichiarazione ebbe una notevole importanza e risonanza, trasformò la questione dell'eliminazione delle armi nucleari da un sogno lontano in un problema politico importante. A seguito di quella presa di posizione dei quattro eminenti statisti americani in una serie di altri paesi, per prima l'Inghilterra e per seconda mi fa piacere dire l'Italia, gruppi di esponenti politici che avevano avuto responsabilità di governo, normalmente anche in questo caso su base bipartisan pubblicarono articoli nei quali si associavano a questa impostazione di fondo che Kissinger, Schultz e gli altri avevano dato, prima in Inghilterra, poi subito dopo in Italia nel luglio del 2008 con un articolo che fu firmato dall'onorevole D'Alema, dall'onorevole Parisi, dall'onorevole Fini, da me stesso e dal professor Caloggio che era stato segretario generale del Paguash e noi pur non essendo un paese naturalmente nucleare scrivemmo che era di enorme importanza che si creasse un movimento in questa direzione e poi sono venuti scritti importanti in Francia, in Norvegia, in Polonia, in Giappone, in Australia, insomma questo movimento ha avuto il suo, credo che Des ne parlerà, ha avuto il suo riconoscimento per così dire in un importantissimo discorso che il Presidente degli Stati Uniti Obama ha pronunciato a Praga nel 2009 in cui ha posto questo come un obiettivo politico, naturalmente aggiungendo, forse non lo vedrò nel corso della mia vita disse Obama a Praga, ma ponendolo come un grande obiettivo politico. Sulla base di questa idea Des Brown ha preso un'iniziativa che io considero di enorme importanza e che poi è la ragione per cui è qui con noi oggi, ha cercato di creare in Europa una rete di personalità politiche, esperti, studiosi e diplomatici e così via che in un certo senso rafforzassero questa impostazione. Si chiama, ce lo dirà meglio, European Leadership Network, una rete su cui sta lavorando con molta passione e con molto impegno per cercare di creare una, come posso dire, trasformare questo grande obiettivo in un'iniziativa politica che possa avere concretezza. Noi vorremmo che anche in Italia nascesse, stiamo lavorando, perché anche in Italia nascesse un gruppo, analogamente al gruppo di cui egli è organizzatore in Inghilterra, un gruppo di esperti, di uomini politici che si impegnino e siano impegnati sui temi del disarmo nucleare su base multilaterale. Questa sua conferenza, di cui sono molto grato, serve non solo a chiamare il dibattito su questi temi, in particolare sul tema che egli tratterà, su ciò che l'Europa possa fare. L'Europa che è stato poi il campo, per così dire, di battaglia, non delle armi usate, ma il problema dell'equilibrio partiva dal problema dell'equilibrio europeo, il problema delle armi nucleari degli Stati Uniti, i missili a lungo raggio, a medio raggio e così via. L'importanza e la domanda a cui chiedo di rispondere in questa sua conferenza è, ma l'Europa che cosa deve e che cosa può fare per favorire, per lavorare nella direzione? Questi sono i temi che ho voluto brevemente sintetizzare. Lo ringrazio ancora per la sua presenza qui e gli do direttamente la parola. Ti ringrazio molto. Signor Presidente, eminenti ospiti, signore e signori, in primo luogo molte grazie al mio amico Giorgio Lamalfa per queste gentili parole di presentazione e ringrazio anche la Fondazione Ugo Lamalfa per avermi invitato, per avermi dato la possibilità di presentare la lezione per licepolito per quest'anno e grazie anche per permettermi di parlare nella mia lingua, ma se dovessi parlare in italiano purtroppo non sarebbe possibile per farmi capire. Quindi grazie per tollerare questo scozzese che parla in inglese. Questa è una possibilità di parlare con voi di quello che ritengo essere uno dei problemi più importanti che abbiamo di fronte. Quando dico abbiamo di fronte intendo il mondo, i potenzi nucleari e credo che c'è bisogno di un contributo europeo per risolvere questi problemi. Chiaramente sarà un piacere per me rispondere ad eventuali domande dopo i miei commenti e voglio anche sottolineare che sono qui anche per imparare qual è il punto di vista italiano su queste questioni, non solo per presentare il mio punto di vista. Non ci sono mai cose che sono perfette, quindi se è perfetto va molto bene. Allora torno al mio testo. Voglio sottolineare che sono qui per imparare, non solo per parlarvi. Quindi credo che avremo una discussione interessante dopo la mia relazione. Per chi segue la crisi finanziaria nell'Eurozona o le sue ramificazioni globali, eventuali, l'idea che l'Europa sia importante forse è una cosa molto chiara. Ma quando si arriva alla questione nucleare forse la situazione è meno chiara ed è ancora meno evidente a molti politici che le armi nucleari rimangono un problema importante tanti anni dopo la fine della guerra fredda. Quindi voglio sottolineare tre cose questa sera. In primo luogo voglio sostenere, come una persona che è stato ministro, responsabile del deterrente nucleare del mio Paese, che bisogna assolutamente prendere sul serio questa questione. I pericoli nucleari sono in aumento, non sono in diminuzione. In secondo luogo voglio sostenere che è necessaria una forte leadership politica per affrontare questo problema. Non può essere lasciato ai tecnocrati. Questo problema bisogna che siano i leader politici che hanno la responsabilità della sicurezza nazionale ed internazionale ad affrontare il problema. Poi voglio sostenere che l'Europa ha un ruolo di leadership cruciale da svolgere nel far fronte alla sfida globale in questo campo politico. Troppe persone su questo continente pensano che sta agli Stati Uniti e alla Russia a affrontare questo problema, mentre noi europei rimaniamo a guardare da bordo campo. In primo luogo voglio riconoscere che abbiamo visto dei buoni progressi nel disarmo e nella non proliferazione negli ultimi anni. Il discorso di Praga del Presidente Obama nel 2009, che ha citato Giorgio, già dove ha dichiarato che gli Stati Uniti prendeva l'impegno di cercare la pace e la sicurezza di un mondo senza armi nucleari, è stato un momento chiave. Nel 2010, nel nuovo trattato START, gli Stati Uniti e la Russia hanno firmato un accordo sul controllo degli armamenti molto importante per la prima volta in circa due decenni. Nello stesso anno la conferenza di revisione del trattato di non proliferazione ha raggiunto un documento di consenso dichiarando la responsabilità di tenere una conferenza nel 2012 sull'idea di avere una zona libera da armi di istruzione di massa nel Medio Oriente. Questi sono tutti risultati benvenuti ed importanti e fanno parte di una tendenza più lungo termine che porta alla riduzione delle armi nucleari nel mondo. Dal 1945 si stima che circa 128 mila testate nucleari sono state costruite e le armi nucleari detenute dagli Stati sono arrivate a un massimo di 70 mila testate nella metà degli anni Ottanta. Da allora c'è stato un declino, una diminuzione dei numeri fino a circa 23 mila oggi. Qui finiscono le buone notizie. Lo slancio politico si è rallentato e le questioni di non proliferazione di disarmo adesso sono state relegate in secondo piano nella politica internazionale. Con l'imminenza delle elezioni statunitense in Russia, anche in Francia, altre questioni attualmente assorbono la maggior parte della tensione nazionale e internazionale. Abbiamo questioni come la crisi economica finanziaria, l'aumento della disoccupazione, l'immigrazione, il cambiamento climatico ed altre cose. Per complicare ulteriormente le cose il disarmo nucleare globale è un progetto a lungo termine che richiede uno sforzo continuo su un periodo molto più lungo che non è di una o due legislature e quindi i benefici politici a breve termine non sono facilmente percepibili. Molti politici preferiscono dare come risultati scontati le riduzioni delle armi nucleari negli anni recenti e pensare, comportarsi come se non ci fosse problema nucleare. Questo non è vero. Il numero ridotto di armi nucleari nel mondo nasconde solo il fatto che il numero di stati con armi nucleari è aumentato. Le armi nucleari adesso sono presenti in alcune delle regioni più instabili del mondo, mi riferisco chiaramente al Medio Oriente, all'Asia nord orientale e all'Asia meridionale che sono tutti punti in cui ci sono potenzialità di conflitti. Inoltre il modernamento a lungo termine delle forze nucleari è una cosa in corso in quasi tutti gli stati dotati di armi nucleari. La Russia e gli Stati Uniti hanno confermato il loro impegno per conservare una triade di forze nucleari terrestri, navali ed aeree nel lungo termine. La Cina, l'India e l'Israele stanno cercando di costruire le proprie triadi. Nel caso della Cina e dell'India ci sono dei programmi di missili balistici molto significativi che sono in corso in Israele, abbiamo il modernamento della flotta di sommergibili a capacità nucleare che sembra profilare la possibilità di un missile balistico intercontinentale in futuro. La Francia ha appena completato il modernamento della flotta di sommergibili con capacità missilistica balistica. Nel mio paese ci sono paesi di modernizzare la forza di sommergibili nucleari con nuove generazioni di sommergibili missili che dovrebbero durare fino al 2040 e oltre. Centinaia di miliardi di dollari, forse più di mille miliardi di dollari sono stati destinati alle spese in questo campo per il prossimo decennio. Allo stesso tempo negoziate con l'Iran e la Corea del Nord per far sì che questi paesi rispettino i loro obblighi in base al trattato di non proliferazione e sono in fase di stallo. Il problema che affrontiamo è un problema molto radicato e nonostante il fatto che si parli molto della necessità di lavorare insieme per affrontare le sfide della globalizzazione, vediamo che abbiamo ancora una mentalità all'antica improntata alla deterenza e in alcuni casi alla corsa agli armamenti. La Cina considera il suo programma come scudo contro gli Stati Uniti, l'India, il programma dell'India, è una salvaguardia contro il Pakistan e la Cina. La modernamento degli armi nucleari francesi è stato giustificato dal aumento del numero delle armi nucleari che sono tenuti in riserva altrove nel mondo e nel Regno Unito, si considera che queste armi siano una politica di assicurazione nazionale in un mondo incerto. In queste circostanze vorrei dire che il problema nucleare, pensare che il problema nucleare sia sotto controllo pecca di inuncoranza, nella migliore delle ipotesi, di ottusità, nella peggiore delle ipotesi. È anche arrogante pensare che nel mondo descritto la stabilità di una contraposizione nucleare, come si è avuto nella guerra fredda di tipo bipolare, possa essere ripetuta con sicurezza. Non è possibile. Con l'aumento del numero degli Stati con armi nucleari, in regioni molto instabili, la deterenza nucleare diventa molto meno affidabile, molto più rischiosa. Se non affrontiamo questo problema, nel futuro non troppo lontano, qualcuno utilizzerà le armi nucleari con conseguenze catastrofiche. E questo mi porta al secondo punto, cioè la necessità di una leadership politica. Prima di procedere vorrei riconoscere i meriti degli apparati di sicurezza militari, perché svolgono un lavoro preziosissimo nel risolvere le sfide. Quindi abbiamo un debito di gratitudine nei confronti del personale diplomatico e militare, sia attuale che passato. Le istituzioni di sicurezza militare possono rimanere bloccate in vecchi schemi e in vecchie mentalità. È importante invece contestare questi apparati di sicurezza. È difficile. A volte i politici possono sentirsi schiacciati dalle conoscenze tecniche degli esperti. Però bisogna in qualche modo affrontare queste questioni tecniche. E accettare soltanto un parere tecnico che comunque difende lo status quo in genere e non fa nulla di più non ci porta da nessuna parte. Le valutazioni sul ruolo delle armi nucleari e sulla deterrenza nucleare delle strategie di sicurezza sono essenzialmente valutazioni politiche. E quindi dovremmo tenere presente che sullo sfondo dei programmi di modernizzazione nucleare ci sono dei rapporti politici in crisi di sospetto e sfiducia. Questa sfiducia non può essere superata a livello tecnico ma solo attraverso il dialogo politico. I funzionari pubblici e gli operatori della sicurezza non hanno un mandato per negoziare dei cambiamenti controversi per conto delle nazioni. Solo i politici lo possono fare. Quindi se vogliamo affrontare questo pericolo, l'impegno e la leadership politica è essenziale. Terzo punto, dopo aver illustrato la realtà nucleare e la necessità impellente di leadership politica, vorrei dire perché è importante l'Europa e in che modo i leader europei possono contribuire in modo significativo a risolvere questo pericolo nucleare. Considerando le imminenti elezioni nazionali in Russia negli Stati Uniti, io ritengo che gli europei possano e debbano fare cinque cose. In primo luogo l'Europa deve svolgere un ruolo centrale per portare avanti la cooperazione tra la Nato e la Russia. Quindi la deterrenza continua a essere un concetto prevalente anche dopo la fine della guerra fredda e questo impedisce che la cooperazione tra la Nato e la comunità europea e la Russia possa rispondere alle sfide globali. Ora dobbiamo andare oltre questa mentalità della deterrenza perché sappiamo dalle tristi esperienze del XX secolo quali sono i rischi, ma una cosa deve essere chiara, non è che questo è negli interessi dell'Europa, i leader europei hanno anche un ruolo da svolgere e possono far leva per portare avanti il rapporto con la Russia. La mia tesi è semplice, gli europei hanno la possibilità di portare il rapporto tra Russia su una base più utile da un punto di vista economico, commerciale ed energetico. Poi però il problema è che alcuni paesi ad est nella zona est della Nato guardano con tumore alla Russia mentre ad ovest in Europa ci sono i migliori amici degli Stati Uniti. Ora ciò che i membri europei della Nato fanno rispetto alla Russia può dare la possibilità agli Stati Uniti di essere audaci nel costruire la cooperazione con la Russia oppure essere un peso per i progressi irraggiungibili. Io credo che si debba accelerare e non rallentare la cooperazione con la Russia come è stato fatto in passato. In secondo luogo i paesi europei si devono impegnare davvero per portare avanti le consultazioni sul riesame della posizione di difesa e deterrenza della Nato. Questa revisione può essere una base anche per anni a venire. Io ritengo che queste armi non strategiche nucleari in Europa non hanno più il ruolo di una volta di essere il deterrente contro la superiorità convenzionale in Unione Sovietica. Alcune di queste armi sono proprio stazionate qui in Italia e con tutto il rispetto per il pubblico che è qui l'Italia dovrebbe impegnarsi di più per la riduzione in vista di un'eliminazione di queste armi. Quindi è importante pensare a questo riesame della posizione di difesa. In terzo luogo bisogna andare al di là dei negoziati solo bilaterali tra Russia e Stati Uniti. Qui il mio paese e anche la Francia hanno una particolare responsabilità perché sono stati nucleari. Dopo il nuovo start e poiché ci saranno le elezioni nel 2012 in USA e negli Stati Uniti, la Francia e il Regno Unito dovranno investire energia diplomatica per multilateralizzare i negoziati sul disarmo. Sarà difficile a livello politico, però non possiamo soltanto aspettare che se ne faccia carico l'America. I P5 hanno iniziato delle trattative regolari ma io credo che si debba arrivare a un dialogo veramente serio sul disarmo e ci sono degli ostacoli con dei dettagli da superare e questo è il contributo che possono dare il Regno Unito e la Francia. Quarto punto, dobbiamo individuare sistematicamente, valutare, migliorare il contributo di non proliferazione e di disarmo di una serie di istituzioni europei da governi nazionali alle istituzioni dell'UE all'industria nucleare europea. Io non credo che nessuno oggi abbia un quadro chiaro del contributo europeo e senza questo chiaro quadro non possiamo alzare la posta in gioco e migliorare il nostro contributo. Alcune istituzioni sono collocate bene per promuovere il disarmo e altre invece per rafforzare la non proliferazione, invece altre danno un sostegno finanziario umano e tecnico ad altri nel sostegno di iniziative come la risoluzione 1540 dell'ONU. Altre invece possono creare e attuare regimi giuridici che possono rendere più difficile il traffico di materiali nucleari, ad esempio inasprire le sanzioni per chi viola il regime. Ora, in Europa dobbiamo farci un esame di coscienza, si fa abbastanza, l'Unione Europea sta svolgendo un ruolo costruttivo, si può fare di più, quindi sono questi interrogativi che insieme ad altri amici e anche a Giorgio Lamalfa ho creato questa struttura, l'ELN, un'organizzazione, questa European Leadership Network che vanta 80 personalità di varia colorazione politica da vari paesi europei, anche dalla Russia, anche leader russi e turchi. Quinto punto e qui chiudo, io ritengo che ci sia bisogno di una zona priva di armi di distruzione di massa in Medio Oriente e quindi è importante proprio creare un'area del genere in questa regione, questo è quello che è stato sottolineato dalla conferenza di revisione del trattato di non proliferazione. Quindi ci sarà anche una conferenza che sarà organizzata dalla Finlandia e sarà seguita da vari stati medio orientali e qui ci sarà la possibilità di realizzare dei progressi, quindi l'Europa deve svolgere un ruolo centrale e come ho detto ha già svolto un seminario nel luglio di quest'anno, tuttavia bisogna fare di più, insistere con pressioni diplomatiche ed economiche per sottolineare e per far capire a questi stati che non siamo disposti ad accettare dinamiche a cascata di proliferazione nucleare e instabilità lungo i confini meridionali dell'Europa. E quindi per concludere vorrei dire che il disarmo nucleare e la non proliferazione richiedono un impegno costante qui in Europa e in tutto il mondo, il problema è troppo serio, non può essere lasciato al caso, quindi bisognerà affrontare questa sfida in tutti i settori che ho indicato. Ho detto quindi che l'Europa ha un ruolo di leadership da svolgere, troppi pensano che spetti alla Russia e agli Stati Uniti intervenire mentre noi rimaniamo in panchina a guardare, ma soltanto così questo sogno di condiviso, di eliminare le armi nucleari sarà possibile. Quindi io vi invito a fare tutto il possibile in Europa per ottenere tutto il possibile per ridurre questo pericolo nucleare al quale senz'altro siamo disposti e sono pronta a rispondere a eventuali domande. Grazie. Grazie, grazie. I problemi sollevati sono tanti, il nostro oratore è disposto a rispondere a alcune domande. Chi desidera prendere la parola si prenoti e saremo grati se nel prendere la parola, anche se molti di voi sono da non conosciuti, dica il nome perché registrando gli interventi siamo in grado poi di portare a un'udienza più ampia i risultati di questo nostro incontro. Prego. Domenico Rinelli, l'intento di Lord Brown è nobile, ma come fare a convincere i Paesi in via di sviluppo che spesso possono impostare delle guerre ideologiche? Iran, per esempio Iran, e qui mi fermo, ma ce ne saranno altri.